Roma, la città eterna, ospita dal 15 al 17 settembre il Rotary Institute 2023, coinvolgendo rotariani e ospiti provenienti da tutto il mondo. Un'occasione unica per incontrarsi, discutere e condividere idee su come migliorare comunità locali e globali. Il tema scelto per l'edizione 2023 è Change Means Evolution. L'associazione è attualmente impegnata in una riflessione profonda sul proprio futuro. Nella prestigiosa cornice del Convention Center La Nuvola, un evento di grande importanza. alla presenza del Presidente Internazionale 2023-2024 Gordon McInerly e del Board Director 2022-2024 del Rotary International Alberto Cecchini. Quest'ultimo ha parlato ai nostri microfoni. L'idea della nuvola era proprio perché Roma non è solo la grande bellezza che conosciamo, ma c'è anche tutta la parte più contemporanea che volevamo raccontare, anche perché i luoghi ci dicono molto, parlano gli spazi architettonici, parlano un po' la nostra anima e quindi ci danno delle sensazioni che possono essere di meraviglia, di disagio, di accoglienza, di calore. Noi volevamo, parlando di cambiamenti, uno spazio che potesse in qualche modo indicare alle persone anche una modalità diversa proprio di percepire gli spazi. Il Rotary ha un network di 1.400.000 soci nel mondo con oltre 46.000 club in circa 200 paesi, quindi abbiamo un'enorme rete internazionale, ma la nostra attenzione è sia alla comunità locale che a quella internazionale, mettendo al servizio le nostre professionalità. Naturalmente parlando di impatto, che è uno dei capisaldi del nostro piano di azione, dobbiamo immaginare dei progetti che possano avere sempre una sostenibilità, dei progetti che possano avere un reale beneficio sulle persone che sono coinvolte. Il Rotary mira così ad ampliare il proprio impatto, coinvolgendo nuovi partner e realizzando progetti di maggior scala, monitorandone i risultati.